Per il locale indipendente piano terra con spazio verde. Prezzo a film e video. Sala da pranzo con cucinino. Ampio soggiorno. Camera singola. Camera matrimoniale. Spazio verde di proprietà. Prezzo 84.000 euro. Spazio verde l'iv� Kubernetes. Spazio verde di proprietà. Sappio verde. Spazio verde. Spazio verde. Spazio verde. Grazie a tutti. Grazie a tutti.